Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Brunella Bolloli, giornalista di Libero. Buonasera e bentornato Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco di Zeit. Buonasera Paolo Miele, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Allora, tra manovra e migranti, Giorgia Meloni rivendica i suoi successi. Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Massimo Giannini, cominciamo dal Consiglio dei Ministri che, come sapete, è cominciato da una decina di minuti, deve affrontare una difficile manovra economica. Finora sappiamo che ci saranno dei tagli lineari ai ministeri, l'aumento delle accise sul diesel, un contributo sui cosiddetti extra profitti delle banche e una probabile revisione di alcune detrazioni fiscali. Allora, chi pagherà alla fine questa manovra? E sarà promossa l'Italia con questo tipo di manovra economica? In Europa, voglio dire, perché è quello che ci interessa. Mi sembra una manovrina di galleggiamento di un paese che non ha un euro da spendere e che ha 3 mila miliardi di debito pubblico sul groppone, come sappiamo, confermati appena oggi dalla Banca d'Italia. Io nei giorni scorsi avevo sottolineato l'esistenza di questi tre gemelli Giorgetti, perché il Ministro dell'Economia nella settimana passata ha detto tre cose diverse in tre contesti diversi. In un'intervista a Bloomberg ha detto che ci sarebbero stati sacrifici per tutti, Domenica a Pontida ha detto che lui da figlio di un operaio tessile, di un pescatore, non avrebbe mai fatto pagare quelle categorie e poi da ultimo a Fratelli d'Italia un convegno milanese ha detto non tasseremo tranquilli nelle persone fisiche e nelle imprese. Alchetti viene da pensare che tasseranno gli animali perché resta poco altro. Alla luce di quello che sappiamo il Giorgetti più veritiero era ovviamente il primo, nel senso che alcuni sacrifici in questa manovra ci sono, li hai elencati tu, diciamo come al solito con una mano si dà e con l'altra si prende. Però non c'è dubbio che toccare le accise sul diesel è una mancata promessa di Giorgia Meloni che aveva giurato che le avrebbe abolite. Allo stesso modo quando si dice tagli lineari del 5% su tutti i ministeri, Andrea Monorchio, ragioniere dello Stato, negli anni 90 diceva taglieremo la carta igienica nei ministeri perché c'è rimasta solo quella. Bene, non si tratta di tagliare la carta igienica, tagli lineari nei ministeri sono tagli ai settori, quindi vuol dire che se tagli 5% ai trasporti, noi che prendiamo i treni, che prendiamo gli autobus, trasporto locale ne subiremo le conseguenze, la stessa cosa vale per la pubblica istruzione, per l'università, sono servizi che vengono tagliati. Dico tutto questo per dire e concludere sulle banche, quello è l'aspetto più grottesco di tutti, perché io non considero scandaloso tassare le banche che, ricordiamolo, negli ultimi due anni e in questo primo semestre del 2024 hanno fatto in totale 80 miliardi di utili le banche italiane, quindi è chiaro che lì c'è materia, però non possiamo sentire quello che ha detto oggi Giorgia Meloni in aula alla Camera quando ha ripetuto noi siamo e saremo più coraggiosi della sinistra perché tasseremo le banche. Pare, ora vedremo cosa uscirà dal Consiglio dei Ministri, ma pare che questo contributo richiesto agli istituti di credito sarà su base volontaria, allora rischiamo il bis dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso il Torquemada di Palazzo Chigi, il sottosegretario Fazzolari disse tassiamo i crassatori del popolo, i banchieri, ad agosto vararono quella tassa che poi sappiamo come è andata a finire, era fatta talmente male che dovettero ripiegare e concedere alle banche la possibilità di accantonare a patrimonio il mancato versamento dell'imposta, quindi c'è molta demagogia, dopodiché non scardinano i conti pubblici, questo è l'aspetto importante e quindi credo per concludere sulla tua domanda l'Unione Europea darà via libera, dobbiamo però capire come saranno coperti le due voci più importanti, cioè gli sgravi contributivi cuneo fiscale e l'avvio della riforma IRPF, perché su quelli l'Europa chiede coperture strutturali, che l'anno scorso Meloni non ha fatto, quindi quest'anno dobbiamo capire se ci sono, perché se non ci sono l'Europa potrebbe obiettare. Ma vedremo, io non credo che l'Europa obietterà molto, anche perché c'è chi sta peggio di noi, vero Giovanni Di Lorenzo, adesso ce lo spiegherai e ce lo racconterai, per esempio la Germania, ma Paolo Mieli, perché oggi appunto Giorgia Meloni ha detto che i cosiddetti extra profitti delle banche e su questo la destra ha più coraggio della sinistra, è così e politicamente chi è che vince su questa manovra? Vediamo le file di quello che ha detto Massimo Giannini, ciò che è volontario non è strutturale, allora se tu devi fare qualcosa di strutturale, devi partire da una cosa che è strutturale, magari con dei tempi diversi, ma se ti affidi a qualcosa che così sarà concordato lì per lì vuol dire che di strutturale non hai fatto niente. è vero che i margini sono talmente esigui che è anche un po' una pagliacciata l'intera discussione ogni anno in autunno sulla finanziaria, nel senso se poi arriviamo stremati dopo dibattiti a Natale e non c'è nulla. Mi preoccupa di più l'aspetto della tenuta su questa promessa di non alzare le tasse, di non intervenire sul fisco, perché se la situazione è una situazione da affrontare… Ma finora è stata mantenuta la promessa? No, non è stata mantenuta nella sostanza, lì ci sono degli indicatori, si vede che sanno più, capito? Poi sono gli indicatori che poi non è il giudizio di un giornalista, ma soprattutto è una cosa che se tu ti vuoi rimettere in connessione con l'Europa, non prestarti a un esame che passi con sei meno meno ogni anno e aggredire il tema del debito pubblico una volta per tutto, quella cosa delle tasse, quale che sia la tua promessa all'elettorato, lì si dimostra, capisci, anche De Gaulle andò al potere dicendo che avrebbe lasciato l'Algeria così com'era, francese, poi prese una decisione, cioè lì devi prendere delle decisioni, ovviamente non occasionali… Ma le tasse sono un tema totalmente tabù in Italia, vero? Tanto non ci sono elezioni di qui a tre anni, se non si fa un intervento… Però ci sono elezioni amministrative, regionali… Io sono convinto, guarda, che su quello non incide, ma sono convinto che solo agendo sulla leva del fisco si può affrontare i temi veri dei paesi. Dove per fisco intendiamo evasione fiscale, dal mio punto di vista, sono 100 miliardi, quello è il tesoro da aggredire per un paese che non ha un euro. Però non si fa, perché lì la promessa fiscale invece c'è, alle categorie. Non vi colpiremo, anzi, vi diamo i condoni. Aspettate che torniamo, perché le tasse è sempre un tema spinosissimo, interessantissimo, Brunella Bolloli, ma Giorgia Meloni con questa manovra economica potrà dire di non aver alzato le tasse? Penso di sì, secondo me sì, perché da quello che sappiamo, insomma da quello che è emerso dalle bozze, da questa giornata, non ci sarà un aumento delle tasse, ci sarà invece la conferma di alcune misure, come ad esempio appunto quella su cuneo fiscale che dovrebbe diventare strutturale, quindi già questo ovviamente è una conferma e anche un passo avanti verso la riduzione della pressione fiscale. Poi certo sentivo appunto che parlavate insomma di manovrina, non è una manovrina, è una manovra che viene fatta con i soldi che ci sono, nel rispetto dei conti in ordine, questa è la cosa fondamentale ed è una manovra sulla quale appunto ci dovrebbe essere sicuramente un via libera dell'Europa perché i conti restano in ordine. Quello che è un po' la novità appunto è questo contributo delle banche che è arrivato insomma, non è una tassa ma insomma un contributo dopo una mediazione con gli istituti bancari perché sono quelli che poi effettivamente come ha detto anche Giannini hanno beneficiato di più nel corso degli anni, poi ci sono le altre cose, cioè i tagli alla spesa dove appunto si può tagliare, si taglia ovviamente non ai servizi, la cosa delle accise in fondo non è una tassa perché è vero che se ne è parlato molto e l'opposizione ha detto alla tassa meloni sulle accise perché viene sempre fuori un po' quel video diciamo di anni fa che insomma su cui c'è stata polemica. In realtà è un riallineamento nel senso tra quelle che sono le accise del gasolio e quelle che sono le accise della benzina se il gasolio era a 62 centesimi e la benzina a 73 uno sale di un centesimo all'interno l'altro scende di un centesimo quindi alla fine si dovrebbe arrivare nel corso degli anni ad un riallineamento Esatto, la parola magica è riallineamento e non alzare le tasse perché quello non si può dire però insomma chi poi va alla pompa di benzina per fare il pieno del diesel si accorge che ci sei riallineamento verso l'alto Giovanni Di Lorenzo, ci sembra di capire che dall'economia all'immigrazione l'Italia si è diventata ormai un modello anche per la Germania insomma voi siete indicati come il grande malato dell'Europa da un punto di vista economico perché siete praticamente in recessione ma l'Italia è l'Italia di Giorgia Meloni è diventata un modello per i tedeschi? Lilli, con tutto l'infinito amore che c'è in Germania per l'Italia non ho mai sentito parlare a qualcuno come l'Italia modello politico o economico certo abbiamo dei problemi ma grandissime differenze con l'Italia quello che è vero è che per il secondo anno siamo in recessione 0,3% l'anno scorso, 0,2% probabilmente quest'anno ed è vero che abbiamo gravissimi problemi di infrastruttura ma non penso che in Italia l'infrastruttura sia molto migliore a quella in Germania poi il debito pubblico c'è una grandissima differenza noi siamo attorno al 60% del debito pubblico in Italia come voi sapete molto meglio di me è più del doppio e anche per quello che riguarda l'immigrazione la Germania è stata fino a qualche mese fa la meta preferita di tantissimi profughi in Europa venuti in Europa fate conto che solo negli ultimi anni sono arrivati un milione di ucraini sono arrivati un milione di siriani quasi il 5% della popolazione in Siria è arrivato l'1% di tutti gli abitanti in Afghanistan con dei problemi enormi praticamente ogni persona che riusciva a passare la frontiera tedesca poteva rimanere in Germania perciò il problema migrazione è ben diverso da quello che c'è in Italia e l'immigrazione come vedremo poi è anche uno dei motivi per cui le destre estreme in Germania hanno guadagnato così tanti voti ma ci arriviamo subito Massimo Giannini politiche migratorie oggi Giorgia Meloni ha detto che il Partito Democratico ormai è isolato perché il resto del mondo è con lei a partire dalla quasi totalità degli stati membri dell'Unione Europea sulla gestione dell'immigrazione con questa operazione Albania dobbiamo dire che all'Italia guarda da Ursula von der Leyen a tantissimi altri paesi dell'Unione Europea Mi sembrano affermazioni quantomeno avventate sulla Germania ci ha già spiegato Di Lorenzo che le cose non stanno propriamente così la frase di von der Leyen ripeto mi sembra pura retorica diplomatica diciamo che la vicenda albanese è un perfetto link tra i problemi economici ai quali accennavamo prima e le politiche migratorie che facciamo finta di fare ecco l'Italia mi ricorda tanto la canzone di Giorgio Gabber far finta di essere sani questo vale tanto per la nostra situazione economica quanto per quella politico sociale perché dico questo? perché in un paese che non ha un euro e l'abbiamo detto tutti e ne concordiamo questo governo ha appena stanziato e spenderà quasi un miliardo nei prossimi due anni per mandare uno sparuto drappello di disperati in due centri di permanenza e di respingimento che per lo più diventeranno lager lontani dal cuore e lontani dagli occhi Lorenzo Milioni dice che saranno 170 milioni l'anno circa ma insomma non mi pare che i conti siano questi onestamente ma fossero pure 50 milioni allora ieri è partita una nave e ne ha portati 16 16 sì non sono ancora arrivati perché sono 50 ore di navigazione ieri ne sono sbarcati mille in un solo giorno allora la proporzione grossomoda è questa io penso che l'operazione Albania sia un gigantesco spot che doveva essere elettorale perché la prima nave doveva partire prima delle elezioni europee ma con i ritardi soliti è arrivata solo adesso ma che sottintende un imbroglio giuridico perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea che non considera paesi sicuri per il rimpatrio i 22 che il nostro governo considera sicuri di quei 22 lo sono solo due quindi tutti quelli che vogliamo mandare là da lì dovranno tornare qua e ce li dovremo tenere realisticamente è un gigantesco obrobrio dal punto di vista economico per le ragioni che abbiamo detto quello sì sarà un taxi del mare tu immagina queste navi che faranno avanti e dietro per l'Adriatico portando polizia penitenziaria agenti, medici, personale amministrativo, cibo tutto per dar da sopravvivere a quello sparuto drappello di persone lì e da ultimo una vergogna umanitaria perché stiamo parlando di pochi disperati che noi vogliamo traslocare laggiù facendo vedere che siamo giustamente severi e questo cattivismo della destra purtroppo questo sì fa breccia anche nel resto d'Europa ma io non credo che poiché vince la FD o prende tanti voti la FD in Germania oppure cresce la Le Pen in Francia oppure i paesi dell'Est crescono con l'onda nera per queste ragioni perciò stesso abbiano ragione no, non è che chi vince ha ragione questa roba non si può vedere da nessun punto di vista Paolo Mieli è così che ha citato imbroglio giuridico Massimo Giannini e quello si vedrà perché sarà giudicato i due centri per i migranti al Banu un obrobrio economico e una vergogna umanitaria ma se lo esaminiamo punto per punto sì assolutamente non c'è altro da aggiungere a meno che adesso poi varie corti si occuperanno del fatto che sia o meno un obrobrio giuridico obrobrio economico è evidente ma c'è un ma che stranamente questo avviene in un momento in cui la sinistra mondiale compresa Kamala Harris Starmer così si stanno spostando su queste posizioni che Massimo Giannini prima definiva di cattivismo cioè nel senso che sono posizioni voglio chiarirlo l'ho detto più volte discutendo neanche con voi io penso che siano fuori dal tempo penso che bisognerebbe avere delle maglie larghissime nell'accoglimento più o meno sono sulle posizioni di Papa Francesco e stabilire solo dei filtri per non fare entrare i delinquenti però mi sembra che questo esperimento perché se no perché Fonderlein tu dici l'ha fatto per motivi diplomatici ma perché dice no beh è interessante vediamolo perché Starmer che si era battuto contro la deportazione e poi perché la Gran Bretagna poi tirandosi indietro addirittura pensando di spendere ben di più era l'altro governo Rwanda sì certo ma comunque come viviamo in un mondo in cui è concepibile sia pure poi facendo marcio indietro di portarli in Rwanda è evidente che questi temi sono temi che si pongono e quindi non mi sembra che questo caso tra l'altro nel paese più vicino maritimamente all'Italia sia un caso da scandalo non è un caso da scandalo Giovanni Di Lorenzo perché in realtà anche il cancelliere tedesco Scholz socialdemocratico ha detto che è interessante questo protocollo Italia Albania che è un modello da tenere sotto osservazione e Miele dice anche che la sinistra mondiale in questo momento storico si sta spostando sulle posizioni della destra cattivista forse per motivi elettorali forse per motivi elettorali ma questo è vero anche in Germania dove c'è stata una sveglia scioccante non solo per chi sta governando il paese in questo momento ma in generale per i tedeschi con questa avanzata della destra estrema di alternative per Deutschland ma intanto ho imparato una parola nuova cattivista posizione cattivista che non conoscevo io sono i neologismi italiani noi la usiamo a tempo però la userà è l'opposto del buonismo ah ho capito buonismo la conoscevo comunque io nego che la Germania sia un paese xenofobo o razzista prima ho fatto un po' di numeri per far capire mentre l'Italia lo è Giovanni Di Lorenzo rischia di diventarlo non mi permetto un giudizio perché conosco troppo poco la realtà di tutti i giorni in Italia in Germania non lo è lo è una parte dell'elettorato dell'AFT ma solo una parte ma bisogna tenere conto di una cosa più dell'80% dei tedeschi vuole un'altra politica migratoria più del 90% è favorevole all'espulsione di profughi che in Germania poi sono diventati criminali non si può a lungo o a medio termine andare completamente contro quello che il popolo pensa non si può fare manco in una democrazia rappresentativa come lo è la Germania e la svolta in Germania che a me non mi sembra cattivista ma orientata alla realtà del paese c'è stato dopo il terribile attentato di un siriano a Solingen a fine agosto che ha coltellato tre persone e ferito gravemente delle altre persone lì è scattato un pacchetto cosiddetto di sicurezza pensate in questo pacchetto per esempio c'è adesso il permesso che quando un profugo deve essere espulso e la polizia viene a prenderlo e questo si nasconde nella camera accanto la polizia ha il diritto di andare a cercarlo anche nella camera accanto se no doveva tornare indietro e dire non l'abbiamo trovato perciò intanto il pacchetto non è stato ancora varato viene discusso forse in alcuni punti reso meno cattivo ma il problema è un problema molto reale cioè che anche quelli che non votano estrema destra o estrema sinistra che su questa sulla migrazione sono abbastanza vicini non vuole la politica in che Germania è stata fatta e lì bisogna anche dire l'Italia è parte del problema che ha la Germania perché la gran parte dei profughi che arrivano in Germania poi vanno mandati verso la Germania e questa è una situazione che il paese non può più reggere Brunella Bolloli è vero che gran parte dei rifugiati dei clandestini che vengono che approdano sulle coste italiane poi per noi per loro il nostro è un paese di passaggio perché vanno verso la Germania e magari tantissimi si fermano lì e altri vanno ancora più a nord e su questo questo sarà un altro grande problema a livello europeo sono contenti che li mandiamo in Albania ovunque ma purché non vadano in Germania appunto ma se sono 16 gatti o pochi qualche migliaio all'anno non serviranno però questo può sparaggiare la venuta la deterrenza ecco Brunella Bolloli ti volevo chiedere la Meloni dice come tutta la destra tutto il governo che questi due centri in Albania serviranno da deterrenza per chi vuole venire in Italia in modo clandestino su quali dati si basa questa affermazione della Presidente del Consiglio ma sì una deterrenza che più che deterrenza è una dissuasione nel senso che comunque intanto stiamo parlando comunque di qualcosa che è appena cominciato quindi bisognerà appunto vedere non sono neanche arrivati gli ospiti di questi di questi centri ma sicuramente bisogna fare però un ragionamento anche sul passato cioè dire che chi critica questa iniziativa questo modello albanese che poi appunto come avete detto è stato guardato con interesse dalla von der Leyen da Scholz anche da Starmer quindi insomma da esponenti politici non certo della destra cattivista come l'ha definita Giannini ma insomma più che fare polemica politica bisogna dire comunque che in passato tutte le le iniziative che sono state fatte dai governi dai ministri dell'interno dell'Italia per cercare di arginare il fenomeno dell'immigrazione alla fine non hanno avuto nessun tipo di soluzione quindi questo è un approccio pragmatico che arriva da un paese amico fra l'altro appunto da un socialista cioè Edirama il quale dice l'Italia aveva aiutato l'Albania e adesso noi ricambiamo il favore è vero che c'è anche un discorso dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea d'accordo però intanto si è accollato diciamo questa cosa Brunella scusami se ti interrompo scusami ti volevo chiedere ma funzionano le politiche anti-immigrazione di Giorgio Meloni che ci ha vinto le elezioni sulla promessa di non fare entrare più nessuno che non avesse diritto espellere quelli che sono clandestini c'è stata la riduzione degli sbarchi oltre 53 mila sicuramente ma sono diminuiti rispetto all'anno scorso sono dati dell'UNHCR sono dati delle organizzazioni che si occupano di riferimento di migranti sono sicuramente calati rispetto agli anni precedenti sono calati rispetto agli anni precedenti poi stavamo dicendo che certo Lampedusa è un centro che è sempre al collasso che è sempre pieno e quindi non può bastare per ospitare tutti quelli che arrivano da noi e che poi vanno in altri paesi europei questo tentativo del modello albanese vediamo se funzionerà di sicuro quelli che sono stati fatti precedentemente ricordo ad esempio che c'era il ministro di interno Meniti di un governo di centro-sinistra aveva tentato di fare ad esempio un'operazione che era anche valida ma poi non è stata neanche diciamo considerata dai suoi stessi alleati di governo infatti è poi finita lì ci sono gli accordi con la Tunisia fatti quest'anno dalla Meloni con la Von der Leyen sono andate insieme sono accordi bilaterali con i vari paesi di provenienza e poi è arrivata questa manottesa dell'Albania credo che insomma non sia una deportazione certo non sono sì sì anche perché già l'anno scorso quando c'è stato un record era sempre il governo Giorgio Meloni però Massimo Giannini Paolo Mieli e poi di nuovo Di Lorenzo perché dice Giovanni Di Lorenzo che la Germania non è un paese razzista xenofobo che però oltre il 70% dei tedeschi vuole politiche sull'immigrazione più 80% vuole delle politiche di migrazione più severe più restrittive e oltre il 90% vuole che chi ha commesso dei crimini venga espulso immediatamente quindi insomma c'è questa richiesta e c'è tanto buonismo ancora sul fronte della sinistra l'abbiamo un po' sentito anche oggi alla Camera la Meloni la Schlein insomma sia come l'impressione che non abbiano da contrapporre niente di concreto e di pragmatico perché in fondo quello che ci ha raccontato Di Lorenzo è i tedeschi sono pragmatici pragmatismo versus cattivismo ed è solo quello che può salvare i paesi da una xenofobia montante quello che tu dici è vero nel senso che i modelli alternativi efficaci finora non ne abbiamo visti guardando in retrospettiva sia all'Italia sia all'Europa perché che questo sia un problema europeo credo che non ci sia alcun dubbio è stato detto e ripetuto ma la proposta della sinistra ecco voglio dire questo però che l'alternativa non è tra l'Albania e il casino totale cioè venite tutti qua che abbiate diritto o non abbiate diritto che siate profughi o non siate profughi che siate delinquenti o siate persone per bene non è questo io credo il modello da seguire ed è vero che la sinistra non ne ha uno alternativo però però su un punto credo che ci si possa intendere e si possano coniugare le diverse esigenze anche quelle che diceva Di Lorenzo rispetto all'opinione pubblica tedesca di una migrazione buona noi abbiamo un assoluto bisogno e la migrazione buona si fa integrando chi arriva non mandandolo nei lager in Albania integrandolo vuol dire insegnandogli le nostre leggi la nostra costituzione insegnandogli la nostra lingua e dandogli i servizi minimi che gli consentano di poter lavorare e diventare in prospettiva un cittadino italiano ecco magari anche la cittadinanza velocizzare un pochino altre soluzioni non ce ne sono ma comunque guarda delle cose che ci ha detto adesso Di Lorenzo la cosa che più mi fa impressione è il basso scarto che c'è fra 80 e 90 perché quel 90 potrebbe essere 100 nel senso mandare indietro i delinquenti mi stupisco che ci sia un 10% che dica di no è l'80 che fa io terrei staccate le due questioni ed è sull'80 che dobbiamo lavorare e l'80 è la testimonianza di un fallimento perché se l'80% delle persone in un paese come la Germania che ha una guida socialdemocratica ancorché traballante dice 80% vuol dire in più io giudico i fatti Meloni era partito in campagna elettorale che sembrava volesse andare in giro per i mari a sparare e sta facendo blocco navale blocco navale che significava almeno affondare le navi però adesso per adesso sta facendo una politica che dopo una esplosione quella che ricordavamo prima il primo anno il secondo anno non è stata un'estate drammatica c'è questa cosa che possiamo dire che possiamo solo monitorare quello che accadrà prossimamente su questi schermi senti Giovanni Di Lorenzo telegrafico ma la Meloni è l'argine all'avanzata dell'estrema destra o lei è l'esponente più importante in Germania viene vista in due modi diversi quello che fa come politica interna e quella che è la sua politica estera rispettare gli accordi quello che fa in Europa quello che fa dentro la Nato lì viene vista come una che viene da un partito molto di destra che però per andare al governo deve avvicinarsi al centro la via opposta che sta prendendo l'AFT cioè il partito che nei sondaggi in questo momento ha quasi il 19% è Germania perché si diventa sempre più radicale diventa sempre più radicale è una cosa importante questo giudizio la cosa che ci ha detto adesso di Lorenzo vuol dire qualcosa perché è lo stesso motivo per cui Fitto diventa vicepresidente adesso del Consiglio Europeo cioè in Germania e nel resto d'Europa in parte per la politica internazionale la Meloni dobbiamo prenderne atto viene vista come un'argine a patto che non faccia poi in Italia politica urbaniana politica urbaniana un po' le sta facendo della Meloni a livello di politica interna pubblicità siamo in chiusura grazie Brunella Bolloli grazie Giovanni Di Lorenzo grazie Paolo Mieli grazie Massimo Giannini grazie spettatrici spettatori Lina Giovanni Floris al suo di martedì quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti